Ciao a tutti, in questo video vi mostrerò nuove anticipazioni delle puntate dal 17 al 23 aprile di Terra Amara. In questi episodi saranno presenti eventi davvero importanti che sconvolgeranno la vita di molte persone. La scena la apre Zuleya perché comincerà la sua vendetta e bloccherà il matrimonio tra Fecheli ed Unkar, dicendo la verità. Ma prima di iniziare, se vi va, lasciatemi un bel mi piace, iscrivetevi al canale, così non perderete le prossime anticipazioni. Iniziamo. Torniamo un attimo indietro. Quel giorno, finalmente, Unkar e Fecheli stanno uscendo di casa e stanno per salire sull'auto che li condurrà a concludere questa cerimonia, che aspettavano da molti anni. Mentre arrivano davanti alla macchina, arriva Zuleya, dal nulla, che li guarda con un'aria minacciosa. Loro, a primo impatto, rimangono a bocca aperta. Poi Fecheli li chiede cosa ci faccia qui. Zuleya gli dice che prima che i due si sposano è giusto che lui conosca tutta la vendetta e comincia a spiegargli ogni cosa. Gli racconta che lei è stata obbligata a sposare Demir dal fatto di come lei l'abbia sempre ricattata e gli abbia portato via i bambini. Poi Unkar è arrivata addirittura a segregarla in un manicomio. L'unica verità che Zuleya però non gli dice è che Adnan in realtà non è figlio di Demir ma figlio di Ilmaz. Dopo che gli ha detto tutte queste cose, Fecheli per un po' rimane completamente scioccato perché non si aspettava tante notizie così orribili tutte insieme. Dopo questo momento Fecheli è sconcertato così decide di rinunciare al matrimonio. La ragazza dopo essersi così sfogata dicendo la verità non si sente benissimo perché comunque dicendo tutte quelle parole ha un po' ripassato in testa tutti quei momenti di dolore. Così va nell'ufficio di Sabatin e iniziano a parlare. Zuleya gli fa capire che per forza di cose queste parole le ha dovute dire perché Fecheli doveva conoscere tutte le atrocità commesse da Unkar. Però gli fa capire che il segreto più grande se l'è tenuto per lei ovvero che Adnan non è figlio di Demir. Durante la chiacchiera Mujgan è dietro il separè e sta ascoltando tutto il discorso e sentendo quelle parole rimane petrificata. Beiche fa cercare ad Ilmaz il libro su cui la moglie segna ogni cosa da quando ha scoperto di essere incinta. Leggendo queste frasi Ilmaz piange e ritorna subito da sua moglie. Però Mujgan, che è molto distante da lui, chiede se sa qualcosa riguardante la questione del piccolo Adnan. Ma lui non ne sa niente. Poco dopo Cetin dice a Ilmaz che le nozze non si sono più svolte. L'aria si fa sempre più fredda tra le due famiglie. E Unkar vorrebbe fare ogni cosa per recuperare il rapporto con Demir. Ma nel frattempo, mentre Beiche e Sermin parlano delle diverse situazioni, arriva Tip che dice che odia tantissimo la famiglia degli Yaman. Perché l'invece, che è molto giù di morale, cerca supporto da Ilmaz. Walten si è decisa a sposare Rusten, un uomo con molti figli. E' molto più grande di lei. Sani e Zuleia avevano provato di tutto e di più per convincerla a non sposarlo. Ma lei è ferma sulla sua decisione. Fadik incontra Cetin al mercato e gli dice che Gulten è innamorato di lei. Ma quando decide di andare, viene arrestato per aver sparato un colpo di pistola a Rustel. Una volta in prigione, Gulten lo va a trovare ogni giorno e gli promette che lo aspetterà sempre, finché lui non uscirà perché lei è innamorata di lui. Beiche è riuscita in tutte le maniere a scagliarsi contro gli Yaman e poco dopo, Atip si propone come presidente della Camera. Dopo una dura lotta contro Demir e Unkar, Atip diventa presidente. Sermin, durante la cerimonia dell'anniversario dell'azienda, dà contro Demir, dicendo che sta facendo tutto per eliminare definitivamente il cofondatore dell'azienda. Nasie, quando vede Sermin, gli va incontro e si mette a urlare a tutti che lei è andata a letto con suo marito Atip. Subito dopo, Fekeli e Dilmaz ricominciano a parlare, ma non solo di affari, ma anche di una certa situazione che potrebbe distruggere definitivamente la famiglia degli Yaman. Ciò che è capitato per l'appunto durante l'anniversario è ormai sulla bocca di tutti, grazie alla stampa che ha pubblicato l'articolo in prima pagina. Demir cerca in tutti i modi di inventarsi qualcosa per fermare sua cugina Sermin. Sanie, invece, è molto pensierosa e sospetta che Unkar abbia un segreto che riguarda Gulten e prova in tutti i modi a capire di cosa possa trattarsi. Poco dopo, la matriarca incontra Sanie e decide di rivelare tutta la verità su Gulten e tutto quello che ha passato fino ad ora alla ragazza. Sanie, sentendo certe frasi, rimane completamente paralizzata di fronte a ciò che ha passato e venendo a conoscere tutto, inizia a cambiare totalmente idea su di lei e su Chetín. L'aria è sempre più fredda tra Zuleia e Mujgan. La dottoressa chiama Irmaz e gli dice che deve assolutamente trovare un modo per tagliare i rapporti in modo definitivo. Unkar dice a Fadik di riconsegnare la carrozzina a Mujgan che aveva comprato Irmaz per il loro piccolo bimbo, che per uno strano errore del corriere era arrivata a Zuleia, con il quale il piccolo Adnan aveva iniziato a sedersi e a giocarci sopra. Mujgan che ha visto tutto però non accetta per nessuna ragione il passeggine indietro, quindi lo riconsegna a Zuleia molto delusa di questa scelta. La zia di Mujgan dà questo consiglio a Irmaz dicendogli di far qualcosa per sua moglie che si trova in uno stato difficile e essendo in gravidanza potrebbe essere davvero rischioso sia per lei che per il bimbo. Voi cosa ne dite? Le anticipazioni finiscono qua. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e iscrivetevi al canale così non perderete le prossime anticipazioni di Terra Mara. A presto! Ciao!